Andiamo, su, piano, eh. Attento. Attento la testa. Eccoci qua. E questa porta dove porta? E chi lo sa, questo è il bello. E perché non apri così, vediamo? Una parola, questa è chiusa da 400 anni. No. La leggenda dice che qui fu imprigionato una bellissima principessa spagnola. E perché? Prezzi un po' la lampadina. Pare che un bolgio la volesse sposare, però lei non voleva appozzare. Ah, appuncata. Beh, non ci voleva stare. Ah, non ci stava. Sì, una di quelle leggende medievali. E allora lui la imprigionò, sperando con la corcizione di obbligarla. Ma lei invece prese immolare la sua virginale esistenza, anziché cedere alle brame del vile messere. Ma è davanti dalla buca. Ma professore, che fa? Medeo, Medeo. Hai mai visto un archeologo che per entrare nelle tombe dei faroni preme il campanello o bussa? Ma andiamo. Già. Che accade, padre mio? Attenta, figliola mia. Sono uomini che vengono a turbare il tuo sereno rifugio. Uomini? Bando alle ciance, figliola mia. Fuggi, presto. Fuggire? Ma... Ma perché? Io non ho paura, padre. Insomma, è mai possibile che quando devi uscire ci metti sempre mezz'ora? Sei tutta tua madre. Presto avanti. Su. Il lenzuolo è rimasto impigliato. Devo liberarlo. Non c'è più tempo per centomila alla parte. Fuggi! E professore, ma lo sa che a vedere a lavorà mi ricorda tanto il mio zio Agenore? Agenore, Agenore. Ah, è tuo zio? Sì. Agenore Rossi, celebre speleologo, ora a Porto Rico, hai lavori di scavi. No, Agenore Bianchi, celebre scassinologo, ora a Porto Longone, hai lavori forzati. Dai, dopo di te, caro, vai avanti. Ti era proprio su. Mannaggia, che schifo. Vieni qua. Qui non c'è nulla. Si tratta certamente di un'antica segreta. Che puzza di buffa, con tutte st'alagnatele. Mi sembra salcarci di San Gallino. Ma che è questo? Si tratta di un antico lenzuolo nel quale usavano avvolgere le salme dopo averle imbalzate. Eh? Sì, questo dopo lo fai lavare. Ma che vuota me? Sì. Ma quale dopo? Io mi vado su, pia, professore. Stia bene, la saluto. Ciao. Ma tu chi sei? Sono un fantasma. Già, io la faccia di quello che crede ai fantasmi. Ma che fai qui, tutta nuda? Ehi, vieni qua! Aia! Ma perché scappi? Lasciami nel numero di telefono! E se sono palia come una strazza Minazza, minazza E piacchi Uè! Uè! Aiuto! 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 Creta, aiuto! Tu strillato! Ma aver avuto altra visione! Ho visto l'abominevole uomo delle nevi! Ah! Tu ancora bevuto? Tu ha fatto me trucco con scarpa! Oh! Ah! L'abominevole uomo delle nevi là! No! L'iniezione no! L'iniezione no! Sento! Prendi alcol! No, l'iniezione no! Oh! Tu bevuto alcol! Bruto! Voltaci! Tu volta! Tu bevuto, eh! Finalmente! Ehi! Pardonno! E ho sbagliato stanza! Scusi tanto, eh! Eh no! È lei che ha sbagliato letto! Scusate, messere! Me ne vado! Non sia mai! Attilio Chiarini non ha mai negato ospitalità a nessuno! Si accomodi, prego! Si accomodi! Ma non è conveniente che io resti qui! Ma che conveniente è conveniente! Un'infetta mia bella! Ti manda Amedeo, eh! Io non conosco questo messere! Non conosce il messere? Mi ha mandato a Ubaldo! Ubaldo? Ubaldo! E chi è Ubaldo? Ah, sarà il nuovo Valletto che collabora con... Ubaldo! Bravo, Ubaldo! Ubaldo! Bravo! E sono stato a caccia e... Lo metto nel... Nel frigiderio! Allo, Chiarini? Eh? Chi è? Mia moglie? E le ha detto che ci sono? E me la fai, sì! Ah, ciao! Sei tu, cara? Eh, beh, sì, sto un po' meglio! Niente! Dormo, studio e faccio ginnastica! Faccio ginnastica, dormo e studio! E leggo! Eh, sì! Una tristezza! Donne qui? Ma nemmeno l'ombra! Eh? Giuro! Ma stai tranquilla, cara! Ciao! Ciao! Addio! E allora? Hai paura? Ah, mi sfuggi? E perché mi sfuggi, selvaggetta mia bella? Lungi da me! Vieni qua! Guarda che tracchiappo, sai! Messere, attento! La vostra sposa vi guarda! Dai, Rosemary, non fare la filodrammatica! Vieni! Pronto? Pronto? Signora! Signora! Uscite! Fate qualcosa! Che ti è venuto in mente? Lascia quel telefono! Il vostro sposo! Insidia la mia virtù! Zitta! 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 Ubaldo! Ubaldo! E dai, dai! Ma chi è questo Ubaldo? È il mio fido scudiero! Un fantasma, messere! Un fantasma! I fantasmi, Pupa! I fantasmi non esistono! Vero! Grazie, Ubaldo! Un fantasma! Ah, ma sei tu! Ancora tu! Ma dico, non mi hai fatto prendere abbastanza spavento tu, questa notte? Perdonate, messere, cercavo il mio lenzuolo Ah, ma io la storia di queste lenzuola, proprio non la bevo Messere, ricordatevi che una principessa Cortes non conosce la menzogna Oh, principessa! Ho capito, siamo di fronte con una principiante Ma come, va in giro a rubare la lenzuola? In questo albergo ci sono gioielli, danaro, padri di valore, argenteria E tu va in giro a rubare la lenzuola, non solo Ma impedisci di fare il proprio mestiere, chi ne sa più di te? Non vi capisco Ah, non capisci? Uno spende tutta la vita a studiare Va a scuole serali, fa dei sacrifici Per farci una posizione, diventare un ladro onesto, professionale Che sa il suo mestiere per bene Arriva vicino a una collana, a due passi, sta per prenderla Arriva lei a cercare un lenzuolo e butta all'aria tutto questo, eh? Oh, come c'ho mica giù una tristezza Che peccato Perché? Che è successo? Un giovane come voi, bello, altero, nobile Che fa il mariuolo Il mariuolo, e beh? Ai miei tempi giovani erano diversi Tutti in casa e campo di battaglia Ah, sei anche guerra fondaia Ma dico sarei mica la figlia di Krupp Ma dimmi, non lo sai che c'è la distensione al giorno d'oggi? Ti sei arrabbiata? Ma guarda che per fare il nostro mestiere bisogna essere più duri E tu sei ancora una ragazzina Quanti anni hai? 491 Oh, te li porti molto bene Io al massimo te ne avrei dati 200 Davvero? Ma 200 fatti con i minuti più belli delle primavere più dolci Erano secoli che un uomo non mi parlava così Sai che tutto in te è primavera? Lo splendore dei tuoi occhi Le fragole che ci sono sulle tue labbra E a me piacciono le fragole, sai? Mesere, devo andare, vi prego Ubaldo mi sorveglia E chi è Ubaldo? Tuo marito? No, 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 è il mio fido scudiero A presto Questo Ubaldo, non lo conosco e già non lo posso vedere Mi è santipatico Oh Ecco, brava, continua a sperare Aspetta e spera, spera e aspetta Vedrai che l'ora della redenzione non è lontana Va bene? Oh, cara Ma come sto, sei fantastico Polizia Terme a tutti Polizia Chiamate Polizia Professore, come mai lei è senza occhiali? Stavo appunto andando di prendere, buona donna Ma che buona donna? Sono Semolin, non mi riconosce? Oh, scusi, senza occhiali E allora stia fermo qua e non si muove, torno subito Un momento Per quesire la debbo Ma lei vuole scherzare Per quesire me, non pensare mica che io Ah, questo è divertente Accusare me di furto Lei è insospettabile Ma questa è la regola Contente? E allora va bene Va bene, l'aiuto io, eh Lei non si disturbi Cominciamo da questo taschino Qui dentro non c'è niente, eh Ubaldo, Ubaldo Se ci siete battete un colpo Sulla testa del topo Volentieri Oh, mio buono Ubaldo Dovete farmi una grazia Di che si tratta? Di riportare la collana alla proprietaria E questa è l'ultima tasca, ecco Come avete visto, non c'è niente Non abbiamo visto nella tasca destra della giacca Siete sicuro? Sicurissimo sono Alzare la mano dovete Ma è vuota Grazie, Ubaldo Ubaldo, non facciamo scherzi, eh Fuori la coll... Fermi tutti Nessuno si muova Tempestivo posti In tempo vi avverti Dobbiamo fare una perquisizione Procedete Lei può andare E lei che ci ha chiamato? Sì, signor Chi è? Lei vostro sono Jean-Marie Samuelone della Suratè francese Moreundo de Catania Collaborare voglio Intanto comincia a farti riconoscere Prego Ma... E lei voleva collaborare, eh? Certo Sospendete l'operazione Abbiamo catturato il fantasma Bravi siamo stati Ma questo fantasma dov'è? È lei Io Ma un equivoco c'è Io sono della Suratè francese Amico di Davolo, sogno Ma... Ne trovassimo uno solo Che dice di essere colpevole Ma no, scusa Mi lasci dire Ma prontelo via Ma no, senta Mi lasci spiaccare Guardi che sei un equivoco Ma no, senta